Preghiera a Nostra Signora del Monte Carmelo per le anime del Purgatorio Santa Vergine, per tutta la mia vita sei stata la mia tenera madre Tu mi hai ottenuto innumerevoli grazie in tutti i pericoli e in tutte le mie pene E non mi abbandonerai nell'ora terribile della mia morte Ma oggi ti chiedo una grazia speciale, come bontà consolatrice degli afflitti E che tu abbi pietà delle anime infelici che il delitto di colpa tiene prigioniere nel fuoco del Purgatorio Tu, amatissima Regina del Carmelo, mi hai permesso di chiamarti mia buona e dolce madre Sì anche delle sfortunate anime per le quali io supplico il tuo cuore così compassionevole Lasciati commuovere dalle mie lacrime e dalle mie preghiere Affinché i lamenti sofferti che provengono da quel luogo di tristezza e di miseria giungano fino a te E, come pia mediatrice tra Dio e le anime che vi sono detenute, ottengano la loro pronta liberazione Questa è la grazia che ti chiedo, oh Madre di Dio, e che ti prego di concedere ai tuoi figli Non smettere di usare il potere che il tuo figlio unigenito si è degnato di concederti Specialmente nel giorno del tuo sabato Amen